Benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video tutorial, io sono Efremano Amici miei, oggi siamo qui per completare l'ultima sfida di Ariana Grande che ci richiederà di sparare i Bengala Ragazzi, questo non mi assomiglia proprio a un Bengala, ma è un dettaglio, è una bomba o un razzo Comunque ragazzi, ovviamente io, come potete vedere dalla mappa, questi sono tutti i punti In cui dovrete andare a schierare questi Bengala Comunque ragazzi, io mi trovo qui, sono proprio al sud della nuova città dei Kubi Quindi ragazzi, andiamo a sparare il Bengala e la sfida è stata completata Beh, diciamo, non del tutto, però ragazzi, ovviamente non è che abbia voglia al momento di andare in culonia per andare a prendere gli altri razzi Comunque ragazzi, scherzi a parte Ragazzi, la sfida è veramente molto molto semplice Spero che il video vi sia stato d'aiuto E' stato così, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale Se non siete ancora iscritti, mi raccomando ragazzi, attivate la campanella delle notifiche per essere sempre aggiornati su tutti i miei video tutorial Noi ci becchiamo a un prossimo video qui da vostro umano di quartiere, come al solito è tutto ragazzi Lo sapete anche meglio di me Bella Noi ci becchiamo a un prossimo video Noi ci becchiamo a un prossimo video